Presidente Neglini, discussione accanita sulla termine di prescrizione dopo il primo grado di giudizio si sospende dal primo gennaio. La sua opinione? È un dibattito, un confronto antico con momenti anche di conflitto nel corso degli anni. Io mi auguro che la discussione che si sta svolgendo in queste settimane trovi una composizione. Bisogna trovarla una composizione perché il principio della ragionevole durata del processo occorre che si attui, si realizzi, lo si persegua. E d'altronde noi non possiamo permettere che la prescrizione costituisca una modalità, per così dire, ordinaria di definizione dei procedimenti, magari all'esito di un lavoro lungo, complesso, dispendioso della magistratura, requirente giudicante e in danno spesso delle vittime dei reati, delle parti offese. Quindi è giusto che la prescrizione si arresti fino ad un certo punto del procedimento, ma è giusto anche che nessun imputato sia sottoposto a processo a vita. Questo non è possibile. Bisogna trovare una composizione. Smussando gli angoli si può trovarla. La riforma del processo civile che è stata varata in questi giorni, che in qualche modo riprende anche un disegno di legge della passata legislatura, l'ispirazione ricalca in parte quella iniziativa, credo che possa essere un intervento utile. Purché si tratti di un intervento di riforma organico, mi convince l'unificazione dei riti civili, oggi dispersi in modelli tra loro molto diversi, mi convince l'eliminazione dei tempi morti del processo civile. Sul resto vedremo, vedremo perché il testo non ancora è per intero noto. Sul processo penale questa discussione, prescrizione ragionevole e durata, può contenere anche lì un'indicazione molto importante sul contenimento dei tempi e sull'accelerazione della definizione dei processi. Vi sono state disposizioni di aumento degli organici, che mi auguro possono essere attuati entro i tempi più ragionevoli possibili. Il tema più serio è quello del personale amministrativo e tecnico. Tutti gli uffici giudiziari italiani, e io ne ho girati gran parte, lamentano questa carenza, che in parte è stata colmata, ma in minima parte in questi anni, per altra parte andrà completata. Troppo spesso il magistrato... Grazie a tutti. Grazie a tutti.